Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi vi parlerò delle mie ultime letture, ovvero i libri che ho letto tra settembre ed ottobre. Non ho letto la stessa quantità di libri che ho letto in altri mesi dell'anno, però insomma in totale ho letto quattro libri e adesso sono qui per parlarvene, visto che come diciamo sempre non è la quantità che conta ma la qualità e i quattro libri di cui vi parlo mi sono piaciuti tutti veramente tanto. Prima di iniziare come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirò un nuovo video. E se non lo fate già seguitemi anche su Instagram, io sono Martina Tazza. Cominciamo! Il primo libro che vi mostro è Una serena a Parigi di Mathias Malcieux, credo si pronunci così. Lo stesso autore della Meccanica del cuore, il suo libro probabilmente più famoso. Io ho letto La meccanica del cuore ormai diversi anni fa e ho voluto, una volta che ho trovato in offerta questo libro, ho voluto prendere anche questo perché mi ricordo che il primo libro mi era piaciuto veramente tanto. Devo dire che anche in questo caso ho ritrovato lo stesso scrittore meraviglioso della Meccanica del cuore perché anche qui in Una serena a Parigi siamo dentro a una favola per adulti. Io la chiamo così perché sinceramente non lo vedo come un libro fantasy ma è una vera e propria favola. Io poi non sono di solito un amante del fantasy ma in queste storie io proprio mi perdo, mi perdo. La storia parla appunto di Una sirena a Parigi. Il nostro protagonista, Gaspar, trova una sirena sulle rive della Senna che è arrivata a causa di una terribile tempesta, quasi un uragano, che si è abbattuto su Parigi. La sirena è gravemente ferita e lui decide di prenderla per prendersene cura e aiutarla. La sirena però ha un meccanismo di difesa che ha creato nel corso dei decenni, dei secoli, ovvero quello di cantare. Quando si trova vicino ad un uomo, visto che le sue esperienze passate con gli umani sono totalmente negative, lei canta e questo suo canto uccide gli uomini. Cioè gli uomini dopo averlo udito si sentono male e muoiono. Beh, anche con Gaspar lei lo utilizza, visto che è completamente spaventata e disorientata, ma con lui sembra non funzionare. Per prima cosa Gaspar porta la sirena in ospedale, perché ancora non ha ben capito se questa sia davvero una sirena o si tratti solo di un costume. La porta in ospedale e qui la lascia un attimo da sola in macchina e un dottore si avvicina per aiutarla. La sirena spaventata canterà e questo medico dopo poco purtroppo perderà la vita. Beh, la compagna di questo medico non accetta questa morte assolutamente insensata e inaspettata del suo grande amore e decide quindi di indagare per scoprire chi l'abbia ucciso e vendicarsi. Quindi insomma questa è un po' la storia, anche se in realtà poi seguiamo principalmente il rapporto che si instaura tra il protagonista Gaspar e la sirena, che viene poi portata nella sua casa, messa all'interno di una vasca e lui cercherà di curarla e di prendersene cura e allo stesso tempo di ricreare per lei l'ambiente più adatto alla sua vita, alla sua sopravvivenza. Il libro è di una dolcezza unica, un po' come la meccanica del cuore, perché è bellissimo vedere come matura, come si evolve il rapporto tra questi due personaggi che vengono da due mondi completamente diversi. E questo rapporto matura anche grazie alle piccole incomprensioni, alla curiosità, al cercare di abbassare le difese per fidarsi dell'altro. Il protagonista poi è un personaggio che ispira veramente tanta tenerezza e tanto affetto, perché è un uomo molto nostalgico, legato ad un passato che l'ha reso felice, dal quale non si vorrebbe più separare. E quindi proviamo una certa tenerezza anche per questo protagonista, perché effettivamente un po' capiamo anche il suo stato d'animo in un mondo in cui ogni giorno nascono cose nuove che vanno a prendere il posto delle vecchie e che vengono immediatamente dimenticate. E lui invece è ancora legato a dei vecchi ricordi, a dei vecchi luoghi che in un passato l'hanno fatto stare bene. E anche questo contribuisce a rendere questo personaggio più vicino a noi e ce lo fa, insomma, amare e siamo dalla sua parte. Il libro chiaramente ha anche una parte bella avvincente, che riguarda per l'appunto la storia del dottore che è stato ucciso dal canto della sirena, quindi è un libro davvero piccolino che vi consiglio di leggere se avete voglia di fare un viaggio magico e tornare anche forse un po' bambini. Il secondo libro di cui vi parlo non ce l'ho qui con me purtroppo, perché l'ho preso in biblioteca e l'ho dovuto intanto rendere. Però ecco, vi rassicuro dicendovi che la mia mamma l'ha già comprato perché dopo la mia opinione super entusiasta che ho dato di questo libro, chiaramente lei l'ha comprato perché sa che le piacerà e lo sta già leggendo. Sto parlando di Leone di Sicilia, un libro che avete visto probabilmente ovunque, è già uscito da un po', credo da un annetto, non mi ricordo comunque, però se ne è parlato veramente tanto perché è un libro di grande qualità. Io ero indecisa se comprarlo perché non ho un rapporto idilliaco con le saghe familiari, o meglio con le saghe familiari che tutti hanno amato, nel senso che dopo la mia esperienza con la saga dei Casalè, della quale ho letto il primo libro e non mi è piaciuto per niente, c'erano troppi personaggi, non succedeva niente di accattivante, avevo paura di ritrovarmi un po' nella stessa situazione. Beh, posso dire e confermare che ho completamente sbagliato, perché questo libro mi ha rapita, coinvolta e conquistata. La storia che viene narrata all'interno di questo libro è la storia della famiglia Florio, una famiglia che è appunto realmente esistita e che esiste tuttora, ha sede a Palermo ed ha una grande azienda di Marsala e non solo, ecco, perché non me ne intendo nel dettaglio, perché ancora non ho letto il secondo volume, perché dovete sapere che, insomma, la storia continua e arriva fino ai giorni nostri. In ogni caso, una famiglia per l'appunto è realmente esistita e la loro storia viene raccontata, in questo libro partendo dalla fine del 1700, per raccontare la storia di due, tre generazioni, ecco, più o meno, per farvi capire il lasso temporale. La storia della famiglia Florio in realtà non parte dalla Sicilia, nonostante li veda sbocciare a Palermo, bensì parte da Bagnara Calabra, da dove la famiglia parte in cerca di fortuna per arrivare per l'appunto a Palermo. Ed è la storia di come questa famiglia si è impegnata e con grande spirito di iniziativa, coraggio, spirito imprenditoriale e davvero tanta forza di volontà, abbia creato poi un impero, tra virgolette, economico di grandi rilevanze, di come il nome dei Florio abbia piano piano preso importanza. Quindi, chiaramente, non voglio dirvi nel dettaglio che cosa succede, perché questo è un libro che va letto. Ogni cosa che accade nel libro, che accade a questa famiglia, secondo me merita di essere scoperta durante la lettura. Parliamo delle varie parti del libro e iniziamo con la scrittura. La scrittura è meravigliosa, estremamente coinvolgente, esattamente il tipo di scrittura che io amo. È una scrittura che sa portarti dentro la storia, perché utilizza tanti termini siciliani, modi di dire, parole per l'appunto del dialetto siciliano, e con questo io mi collego alla parte storica di questo libro. Chiaramente siamo in un periodo storico particolare che ci deve, insomma, lo dobbiamo sentire, ecco, lo dobbiamo vivere. E in questo libro lo viviamo completamente. Non solo attraverso gli eventi storici che accadono lì in Sicilia, ma poi in generale anche in quella che adesso è la nostra Italia, che prima ancora forse così non si poteva chiamare, e che in qualche maniera influenzavano la vita dei personaggi. Ma io parlo proprio delle piccole cose. Come si viveva all'epoca, i mestieri, il modo di parlare e di vestire, o anche semplicemente come viene gestita la situazione di una donna che rimane incinta fuori dal matrimonio. Quella l'ho trovata la parte davvero più interessante, vedere come la società dell'epoca gestiva una cosa del genere. Ma per non parlare poi dei commerci, dei viaggi all'estero, dei rapporti commerciali, i debiti, addirittura il nome che ancora aveva tanta importanza, quindi la nobiltà del cognome, insomma, tante di quelle cose che riguardano quel periodo storico che davvero ci sentiamo dentro a queste scene e le viviamo sulla nostra pelle. E infine andiamo sui personaggi, la cosa più bella di questo libro, perché sono personaggi veri. Sono personaggi che non fanno parte di una storia raccontata con un susseguirsi di date e un elenco di eventi, ma sono dei personaggi vivi che noi sentiamo con le loro caratteristiche, i loro caratteri che sono anche dovuti al momento storico nel quale sono nati. Quindi vediamo come il modo di approcciarsi agli eventi per i personaggi cambia in base a quello che è il loro passato e la loro cultura. Quindi veramente ci sono tante scene in cui ridiamo con i personaggi, ci affezioniamo e anche ci commuoviamo. Io ci sono state davvero delle scene in cui mi sono commossa per come le ho vissute sulla mia pelle. Insomma, spero che queste parole vi bastino per capire quanto questo libro sia meraviglioso. Sto aspettando il momento giusto per iniziare anche il secondo, perché non mi voglio fermare, voglio andare avanti. In ogni caso, anche leggere soltanto il primo arricchirà tantissimo la vostra mente, la vostra immaginazione e la vostra libreria. Cambiamo completamente genere e andiamo su 10. Un bel giallo che ho letto prima di Halloween e del quale vi ho parlato, però ho detto veramente solo due parole nel video di Halloween per l'appunto. Allora, 10 è chiaramente un libro che si ispira alla storia di 10 piccoli indiani. Lo si capisce dal titolo, ma in realtà viene chiaramente detto proprio all'interno del libro. I personaggi sono appunto 10. 10 persone che prevengono tutte in qualche maniera come studenti o come lavoratori, quindi persone adulte, da una scuola e vengono selezionati, sono stati selezionati per partecipare a un reality che si terrà proprio in una casa isolata su un'isola sperduta. Quindi queste 10 persone si apprestano ad arrivare in questa casa per partecipare a questo reality, ognuna per un motivo diverso. Fin da subito capiamo che questi personaggi sono in qualche maniera, anche se all'inizio chiaramente gli indizi sono pochi, legati ad un evento tragico avvenuto proprio nella scuola dalla quale loro provengono, ovvero il suicidio di una ragazza. Insomma capiamo che ognuno di loro ha avuto un ruolo in quello che è successo e non era un ruolo positivo. Una volta arrivati sull'isola, fin da subito questi 10 personaggi cominciano a cadere uno ad uno, esattamente come succede in Dieci piccoli indiani, quindi non ho detto niente di particolare o comunque che vi svelasse qualcosa. L'obiettivo chiaramente per tutti noi lettori è quello di scoprire chi è che ha ordito questo piano e soprattutto perché. Anche perché per l'appunto le informazioni ci vengono date veramente piano piano, ecco, durante la lettura. La lettura è molto scorrevole, adesso vi faccio vedere perché, ecco, i capitoli sono piuttosto brevi. Sono dei capitoletti perché si va avanti tramite gli orari. Quindi il tempo va avanti, l'unica cosa che cambia è il punto di vista, quindi ogni volta vediamo il punto di vista di un personaggio diverso. La scrittura è accattivante, è una lettura molto veloce, si ha voglia di arrivare alla fine. L'unica cosa che posso dire io, non so, se voi l'avete letto magari potete confermare, è che secondo me, se un lettore ci ragiona con attenzione, si può capire chi è che ha ordito questo piano. Mentre in Dieci piccoli indiani chiaramente era impossibile, però, o perlomeno per me, però secondo me in questo caso ci si poteva arrivare, però non so, ecco, se qualcuno di voi l'ha letto e se la pensa come me, ovviamente non posso dire di più. Un'altra cosa è che a un certo punto, secondo me, la storia comincia ad essere un po' sopra le righe, quelle che io chiamo le americanate, no? Quindi una cosa un pochino forse esagerata, che nella realtà forse non sarebbe stata così facilmente attuabile, però in generale è un libro molto godibile, un bel giallo coinvolgente che ci, insomma, ci invoglia ad andare avanti con la lettura, quindi se avete voglia di qualcosa di leggero ma che vi tenga incollate alle pagine, io sicuramente questo ve lo consiglio. L'ultimo libro di cui vi parlo e anche questo ve l'ho già nominato nel libro di Halloween è Teddy. Non ce l'ho qui con me perché è di mia sorella, me l'aveva prestato, però ciò non toglie che sia un libro che deve essere nelle vostre librerie perché mi è piaciuto moltissimo. Ecco, anche questo libro molto gettonato nell'ultimo periodo, super fotografato su Instagram, poteva essere un grande flop, invece secondo me funziona. La storia è quella di una protagonista che è una giovane ex tossicodipendente che viene assunta da una famiglia in una zona molto ricca della città per prendersi cura e fare da babysitter al loro figlio Teddy, per l'appunto. Quindi lei vive proprio lì da loro in quella che è una specie di dependance, diciamo una vecchia rimessa degli attrezzi che è stata rimodernizzata, insomma ristrutturata, e dove lei ha la stanza con una piccola cucina e un bagno, insomma dove vive, e che si trova un po' immersa nel boschetto accanto alla casa. Lei poi si prende cura appunto del bambino durante tutto il giorno e questo bambino che cosa ha di particolare? è il fatto che lui ha un'amica immaginaria, questa Anya che lui disegna molto spesso e che compare appunto nei suoi disegni e che è poi anche sulla copertina del libro e potete vedere che è una figura abbastanza terrificante. Comunque questa amica immaginaria gioca per l'appunto con Teddy, la protagonista dei suoi disegni, ma piano piano durante il corso dell'estate la protagonista si accorge che il bambino ha cominciato a cambiare il proprio modo di disegnare, e disegna come un adulto, anzi come un vero artista e quindi capisce che non può essere un bambino di 5 anni a fare quei disegni. Comincia a sospettare quindi che questa Anya non sia in realtà un amico immaginario ma forse uno spirito che si impossessa di lui. Anche perché lei viene a scoprire che nel posto dove dorme, in questa piccola dipendenza dove dorme, negli anni 40 era scomparsa una giovane donna che viveva lì ed era stato trovato soltanto tanto sangue ma il corpo non era mai stato ritrovato. Quindi insomma le cose sembrano combaciare e lei comincia a sospettare che questo spirito in qualche maniera non si sia mai allontanato dalla casa e che stia sfruttando Teddy per qualche motivo che lei deve scoprire. Ovviamente non posso dirvi altro perché il bello di questo libro è proprio andare avanti nella lettura e scoprire insieme che cosa insomma incontrerà durante il suo percorso la protagonista. I personaggi non sono soltanto loro chiaramente abbiamo i genitori di Teddy abbiamo una vicina un po' stramba e sensitiva e un amico, un giardiniere insomma un ragazzo che fa amicizia con la protagonista e crea insomma un legame con lei. E niente, questo è quanto ecco in realtà anche questo è un libro che va letto per capire realmente il suo valore non solo della storia ma anche proprio della scrittura. infatti parliamo anche in questo caso di una scrittura estremamente scorrevole e anche estremamente coinvolgente nonostante parli di argomenti particolari come ad esempio la tossicodipendenza io l'ho trovato davvero ben scritto molto bello anche il rapporto che si instaura tra la protagonista e il bambino che nasce, cresce e si fortifica e si consolida durante il trascorrere dell'estate ed è davvero molto molto dolce. E poi ovviamente c'è la parte terrificante della storia quindi ci sono questi disegni il libro è pieno di disegni veramente molto belli che ogni pagina che girate è un colpo al cuore veramente belli quello che trovo io è che questa storia sia davvero originale mentre il libro di Halloween dell'anno scorso che era a casa prima di sera aveva tanti elementi che vediamo spesso nei libri dell'orrore o nei film soprattutto dell'orrore in questo caso secondo me c'è davvero qualcosa di nuovo è originale sia la storia che il modo che utilizza lo scrittore mi pare sia un uomo per farci un po' impaurire ottenerci intenzione c'è soltanto una cosa che a me non è piaciuta l'ho trovata proprio inutile e secondo me non c'entrava assolutamente niente non lo so non mi è piaciuta per niente però è alla fine del libro quindi non vi dico niente comunque ripeto è un dettaglio è soltanto una piccola cosa che succede che secondo me poteva essere evitata non mi so spiegare perché sia stata inserita però a mio gusto ovviamente non è questa cosa probabilmente non varrà per tutti insomma anche in questo caso vi consiglio questo libro leggetelo perché è davvero davvero carino e lo leggerete tutto ad un fiato in tre giorni sarà già concluso e poi scrivetemi perché così ne parliamo insieme bene ragazzi il video finisce qui io spero che vi sia piaciuto e fatemi sapere se avete letto i libri dei quali vi ho parlato e cosa ne pensate e noi ci vediamo prestissimo in un altro video ciao